C'è stata questa bellissima manifestazione a Corridogna a livello internazionale, mondiale fatto di partecipazione straordinaria sia da parte ovviamente degli atleti e delle società sportive ma in modo particolare dalla comunità di Corridogna che ha accolto in un modo fantastico la manifestazione rendendo una grande festa, un momento di crescita collettiva e di grande apprezzamento sia sotto il profilo dello spettacolo sia sotto il profilo della partecipazione umana una cosa così importante, noi abbiamo avuto la fortuna di avere un atleta medagliato, un ciclista medagliato nella nostra regione, due medaglie d'oro, risultati molto importanti che sono state un po' la cegliegina sulla torta oggi è l'occasione per esprimere l'orgoglio della regione per questi risultati e ringraziare tutti quelli che hanno permesso di gestire così bene la manifestazione rendendoci quindi fieri di quello che siamo stati in grado di fare e raccontando la storia di piccole comunità che sono quelle della nostra regione in generale in grado di fare cose straordinarie è una bella sintesi che parla di sport, di sport per tutti noi vorremmo continuare su questa strada, ci crediamo tantissimo e questi sono momenti di grande soddisfazione per il lavoro svolto dove raccogliamo insieme ad altri il frutto di un impegno particolare che ha visto nello sport è un obiettivo forte da sviluppare in tutti i sensi, in tutte le direzioni dagli investimenti nelle strutture agli investimenti nell'attività che viene ripagato anche da momenti importanti come questo grazie